ciao questo nuovo video che solito rifaccio sui film e che riesco ad andarmi a recuperare che mi sono andato a vedere night of the haunted che è un film dell'anno scorso del 2023 che visto che lo hanno messo sulle solite sulle solite piattaforme che sono riuscito a guardarlo li volevo dedicare questo video che è che come paese di produzione e tra l'america e la francia che la parte della regia di questo frank calfun che è il solito film o thriller che nella parte del cast degli attori da parte mia quelli che si vedono nel film non ne conoscevo nemmeno uno magari qualcuno di voi ne può riconoscere qualcuno che essendo l'ho voluto andarmelo a guardare che il solito genere che più caldo che può piacere anche a me che più che altro la trama del film di questa donna che si ferma in una remota stazione di servizio nel core della notte che è diventata il giocatolo di un cecchino di questo cecchino sociopatico con una vendetta segreta che per sopravvivere non vede non vede solo non deve solo schivare i suoi proiettili e lottare per la sua vita ma anche per capire chi la vuole morta e il perché che la trama in sé del film e questa acqua questa acqua concentrata su questa donna su questa stazione di servizio che nel cuore della notte lei diventa il bersaglio di un cecchino sociopatico con questa vendetta segreta che come film horror nel complesso sia come trama ed è come anche come fatto il film nel complesso ci poteva anche stare che ho provato a vedere film anche peggiore di di questi che come si dice che più che altro come ho detto la trama in segre ha concentrato su questa donna in questa stazione di servizio che deve cercare di restare viva e il motivo perché la vogliono tipo fare fuori che come film è stato anche distribuito da come si dice da qualità è stato distribuito da questa bim distribuzione che come si dice che come ho detto prima nel complesso essendo che come paesi produzione c'è anche l'america è fatto anche bene che gli americani su queste cose soprattutto sui film riescono sempre a farli bene i film che come è fatto come è fatto proprio il film in sé non c'è niente magari da da die che logicamente può come trama può andare anche a gusti che può anche non non piacere però come film ho provato a vedere film peggiore di di questo che passabile nel complesso come come film e che come al solito vi lascio tutte le informazioni sul film sotto in descrizione tra il cast video trailer e se riesco a trovare qualche altra informazione più trovate tutto tutto sotto in descrizione che come stavo dicendo che la trama è concentrata su questa donna che quando si ferma in in questa remota astrazione di servizio nel cuore della notte è diventata il giocattolo di un cecchino sociopatico con una questa vendetta segreta che come film magari può anche toccare oltre le mare anche un po di mistero e niente che che come ho detto prima le tutte le informazioni del film vi lascio sotto sotto in descrizione che visto che lo avevano messo sulle solite piattaforme e anche facili da reperire come film l'ho voluto guardare dedicargli questo video sul mio canale e niente che quello che potevo dire su questo film l'ho già detta massimo ci vediamo più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale che che tutte le informazioni che riesco a trovare vi lascio sotto in descrizione e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao